Ciao a tutti, benvenuti da Yuan Niu Tao, dove potrete gustare la fonduta di manzo originaria del Shaosan. Yuan Niu Tao è il primo ristorante dove si mangia la fonduta del Shaosan, una particolare fonduta tipica della zona del Shaosan, che è una regione a sud-est della Cina. Abbiamo 120 posti a sedere, distribuiti su un'area di 300 metri quadrati. Le aree per mangiare si dividono in tre parti, il sala principale, le sale private e il giardino esterno. La fonduta Shaosan si distingue dalle altre fondute cinesi, sia per la preparazione che per il gusto completamente diverso. Il brodo all'osso di manzo ha un sapore leggero e genuino. Oltre al classico brodo all'osso di manzo, abbiamo tanti altri brodi, tipo quello al burro piccante, ai doppi gusti, ai funghi freschi, alla coda di manzo e tanti altri ancora. Nella fonduta di manzo del Shaosan, le diverse parti del manzo vengono suddivise, in modo da ottenere una grande varietà di carne di manzo da più svariati gusti. Per garantire la tenerezza della carne, usiamo esclusivamente la carne di manzo fresco, non congelata e tagliata a mano. Se venite al nostro ristorante, saremo lieti di mostrarvi la giusta procedura per assaporare al meglio la fonduta di manzo del Shaosan. Quando arriva la base del brodo, aspettate a immergere il cibo. Per cominciare, vi consigliamo di sorseggiare un po' di brodo caldo, che vi aprirà l'appetito permettendovi di gustare al meglio il resto del pasto. Ecco che arrivano le varie pietanze di manzo, il lombo corto, il giro coscia, la costola, lo scamone, il mandrino ed altri. Immergete i vari pezzi nel brodo usando la schiumarola e, aiutandovi con le bacchette, ruotate la carne per circa 6-8 secondi, in modo da ottenere la perfetta cottura. La carne acquisisce un colore rosastro ed eccola tenera e squisita. Invece, altri piatti come la punta di petto, le polpette di manzo e la pancia nera hanno bisogno di circa 10 minuti di cottura. Anche le polpette di manzo fatte a mano, dai nostri chef, sono una nostra specialità, preparate solo con la carne tenera. Le polpette hanno una consistenza morbida e pastosa e rappresentano a pieno la tradizionale del caosan. Dopo il brodo e la carne, abbiamo per voi funghi e verdure fresche di stagione che vi aiutano a digerire meglio. Infine, potete aggiungere dei noodles di riso o di soia. Solo dopo questa ultima pietanza, potete dire di aver gustato un'originale fonduta di manzo del caosan. Oltre alla fonduta, anche il reparto di barbecue di Yuan Yutao è un'altra nostra importante specialità. Spiedini di agnello di manzo e una vasta varietà di verdure alla griglia. La carne è sempre fresca e il sapore unico. Vi invitiamo ad assaggiarlo. Vi aspettiamo in via Carlo Farini al 74. A presto! Paolo Farini al 74. Genomenna Qui andate! Kiina ut fightsi!